Forse resterà nella storia questo inchino di scuse dei dirigenti della TECPO per quanto accaduto nel marzo del 2011 per il disastro nucleare di Fukushima in Giappone. In quell'occasione nonostante nessuna morte sia stata attribuita direttamente al disastro nucleare rimasero uccise 44 persone inclusi diversi pazienti costretti ad evacuare da un ospedale locale e altre 13 a causa delle ferite riportate durante l'esplosione di idrogeno alla centrale nucleare. Ebbene, la corte distrettuale di Tokyo oggi ha giudicato non colpevoli alcuni di loro, i tre dirigenti del gestore dell'impianto, gli unici sotto processo penale accusati di negligenza per non aver adottato misure adeguate per prevenire l'esplosione nucleare in seguito alla scossa di Magnitudo 9 e al successivo tsunami. I tre dirigenti avevano affermato in loro difesa che non potevano essere in grado di anticipare la gravità dello tsunami che ha provocato l'allagamento delle turbine causando la fusione del nocciolo dei reattori. Quindi per i giudici del Tribunale di Tokyo nessuno è colpevole perché i dati a disposizione dei tre top manager non erano affidabili e non sufficienti ad indurli ad agire per rafforzare le misure di sicurezza o chiudere l'impianto.